Ciao a tutti, io mi chiamo Sandro, sono della Sani Fiché. Quello che non conoscete è che all'interno si nascondono un sacco di batteri. Lui faceva il dipendente, lavorava insomma come molti di voi. Si è reso conto che oltre alla pulizia dei filtri c'era qualcosa altro da fare. Ecco perché siete qua di ampliare, di creare altri centri di Sani Fiché. Mi immagino che c'è mio figlio in quella stanza e esce qua da qua dentro. Questo è bello sporco, esce tutto lo schifo che c'è dentro. A me mi dispiace. La signora dice non raffreddi, invece lo splitter raffredda, ma non riesce a sbaltire l'aria sostanzialmente. Lui è un affiliato nostro, ha fatto un periodo con noi da lavorare. Noi gli passiamo i clienti, come faremo con voi?